Andrina Romano e dopo Antonio Bileggi Io rappresento un po' il male dopo le discussioni che ci sono fatte, ma ridotto nell'81 non ero ancora ranta, quindi non so neanche di cosa c'è, e né tantomeno mi interessa perché guarda il futuro, secondo perché sono un'iscritta del PD, terzo sono in una segreteria, c'è parte anche della direzione cittarina, quindi ancora peggio. Devo dire però che faccio parte dell'Aldo, ormai la, saranno 4-5 anni, non so, ho fatto scelte peggiori perché prima di essere qui dietro in Italia, vorrei dire che la scelta di entrare nell'IDV era perché l'Alde aveva all'interno dello Stato, non so, comunque dell'Italia, aveva solo due partiti che erano il PDV radicali, il PDV mi sembrava quello che potesse più collegarsi alla mia visione, ma non era possibile, si libera e non aveva più. Detto questo, quindi è continuato questo percorso, allora, anche il PDV, però nel PD, bene male, devo dire, ci sono da prima ancora che voi decidessero di andare su un percorso della collo socialista, sebbene io penso del PDV socialista, ma comunque detto questo, non volevo entrare nel merito PDV o nel merito partiti, volevo semplicemente fare due riflessioni, la prima era che la politica non è il mio lavoro, lei lo sarà mai un lavoro bellissimo, che amo, e la politica la faccio con passione, il discorso è che noi che viviamo in territorio dobbiamo in qualche modo lavorare sulle cose, a me piacciono molto questi discorsi pseudo intellettuali, dove noi vediamo che la politica deve raccontare una storia che è antica di anni, però per l'amor del cielo, io ho vissuto anche un partito europeo, soprattutto con il line, anche i giovani dell'alte, in cui c'era un'attività vera e propria, cosa che qui non si vede, allora io che lavoro su un territorio, io vengo dalla Basilicata, ma non so quanti scritti ci sono, probabilmente sarò l'unica, probabilmente sarò l'unica, vengo dalla Basilicata, il contesto politico e territoriale, io vengo, ha bisogno proprio di attivismo, e se noi continuiamo a parlare in questo modo, non arriveremo mai in questo territorio, allora io quello che chiedo è che cosa vogliamo fare, che cosa volete fare, se mi è concesso magari anche se sono dettivite, posso dire che cosa vogliamo fare, oppure devo dire che cosa volete fare, vogliamo fare in modo che... meglio volete fare, cosa volete fare, allora volete fare in modo di creare un gruppo che però sui territori poi debba comunque confrontarsi con le realtà, io non possiamo arrivare come i gredini ad andare contro tutti e tutto solo perché uno è Renzi e l'altro è non so chi, cioè bisogna secondo me creare un minimo di consapevolezza delle persone, di dialogo anche con le realtà, perché non credo che noi abbiamo una forza per lavorare sui territori e dialogare comunque con gli altri partiti, cioè quello che io faccio con il PD è grazie alla mia attività, non la potrei fare attualmente con... anche perché sono sola, non mi seguirebbe nessuno, però avrei più che piacere a poter continuare un'attività del genere e con un gruppo strutturato, però un gruppo strutturato che abbia l'interesse a fare le cose e non solo a parlare, a dire i liberali nell'ottanta dicevano questo oppure queste altre cose, cioè il problema qual è? C'è il problema dell'ambiente, c'è il problema del petrolio, per me il petrolio va anche bene, quindi sono una delle uniche sarebbe perfetto per me in un contesto come quello della Basilica da avere dietro un partito reale che può essere quello dei liberali, ricordo l'anno scorso, ma è una persona anche all'incontro dell'Alde che fu... è finito? Quasi, quasi, quasi Dove fu l'anno scorso l'incontro dell'Alde? Era in... A Lisbona A Lisbona Ma andai, la ragazza che c'era prima, a Carabelle da Vieri, lei manda una mozione su quello che erano le off-shore, che era la parte del petrolio, mi viene la parola, guarda, ok. Comunque, sarebbe interessante avere un discorso del genere a livello territoriale, cioè avere un partito dietro che si confronta su quelle che sono, ad esempio, le estrazioni petrolifere e su quello che è, nella mia regione, questo problema, cosa che magari il PD fa in un modo, la sinistra e i comunisti fanno in un altro modo, la destra fa in un altro modo ancora, ci sono... però è differente, perché, allora, se noi dobbiamo parlare di partiti, una cosa è i membri individuali, e quindi io da persona individuo mi posso iscrivere, una cosa è unirsi al gruppo come partito, io non cerco un altro partito, io non cerco il partito liberale o il partito da l'Alde, io cerco quello che è l'Alde a livello europeo, perché se noi dobbiamo parlare di livello europeo e dobbiamo parlare di quella che è la mentalità europea, io andrei più a vedere una questione del genere, per questo non mi avvicino a qualsiasi altro partito. Comunque, per questo, mi ha fatto piacere conoscere, spero di continuare un dialogo con voi. Scusate, faccio un respiro, non lo faccio più.